Scende la cassa integrazione ma forse non è una buona notizia. Esordisce così una nota firma del segretario generale della UILA Abruzzo, Roberto Campo. Nel primo trimestre del 2015 le ore autorizzate di cassa integrazione sono scese in Abruzzo di più di un terzo rispetto al primo trimestre 2014. La discesa, analizza Campo, dipende anzitutto dal crollo della cassa in deroga, meno 86,3% rispetto al primo trimestre dell'anno scorso. Rispetto al mese di febbraio il crollo della cassa in deroga è ancora più pronunciato, il meno 93,1%. Questo crollo dipende dal fatto che il governo ha deciso da tempo di indebolire lo strumento. Con i pagamenti siamo fermi ad aprile 2014. Non solo c'è il ritardo ma da oggi manca la copertura finanziaria. Le autorizzazioni per il 2015 non potranno superare i cinque mesi in un anno. Difficile, osserva il segretario UILA, pensare che la fine della cassa integrazione in deroga corrisponda al ritorno del lavoro. Più probabile, purtroppo, che l'uscita dalla cassa in deroga sia solo un'uscita dal sussidio. Meno cassa in deroga uguale, meno reddito e non più lavoro. In confronto al dato nazionale, l'Abruzzo va per conto suo su quasi tutto. Il governo si propone nei prossimi decreti delegati in attuazione del Job Act di ridurre durata e qualità di tutte le tipologie di cassa integrazione. Scelta sbagliata e intempestiva, sostiene Campo. La regione, con il fondo sociale ridotto ai minimi termini, commenta il segretario generale UILA, ha scelto di non protestare per il taglio abnorme della dotazione di fondi strutturali europei subito dall'Abruzzo. Ed è ancora più inerme sul fronte delle politiche del lavoro.